sono andato a ritrovare la buccia della banana e l'ho messo su non ci frega niente perché non è mancherebbe però direi che tanto noi siamo partiti da sotto e quindi direi basta direi di sì portiamola sì 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 per la maglietta gialla se gli facciamo su col pennarello cazzo ci aiuta già fatto adesso arrivo anche la adesso torno giù a prendere la moto e a a a a a a a a a